Cari, vi scrivo dopo giorni di quarantena, qui la vita in queste auguste mura non è facile, ma passano i giorni e mi sento sempre più solo, mi fa compagnia solo un bicchiere di brandy che il mio amico mi aveva portato da Portofino e io ho nascosto nelle mie braghe. Sai mamma, qui il tempo sembra non passare mai e mi guardo allo specchio e mi vedo un po' invecchiato. Sarà l'età con queste mura che deformano il tempo. I fari illuminano la notte e anche la mia mente e vedo di lontano quei bambini che giocano felici, dove quel fraterno che ci ha messo qui a guardare le tapparelle e scarafaggi che si muovono nell'are. Caro Conte ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei al Parlamento più forte ti scriverò. Ma quando sei al governo c'è una grossa novità. Il Covid-19 non è finito ormai, qualcosa ancora qui non va. E lo scientifico ci ha dato una conferma. I segnali della curva epidemiologica sono incoraggiati. Non si esce la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo le mascherine vicino alla finestra. E si sta in casa per intere settimane. E i sindaci che non avevano niente da dire, di tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che tra pochi giorni usciremo. E tutti quanti stiamo aspettando la liberazione. Faremo il giro dell'oca e monopoli tutto il giorno. ci sarà di sani che fa dieta. E anche gli uccelli potranno parlare. E si farà un fico secco. Ognuno come gli iva. Anche Salvini potrà fidanzarsi. Ma solo una certa età. E senza grandi disturbi. Qualche politico se ne andrà rimarranno i troppo furbi. E l'intronato di ogni giorno. Come si chiamava? Di anni. Come si chiamava quella medicina che molti usano? di anni. Come si chiamava? Di anni. Come si chiamava? Di anni. Come si chiamava? Di anni. Vedi caro coronavirus. Cosa ti scrivo e ti dico? E come sono contento di essere qui in questo momento? Vedi, 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 vedi caro Covid. Cosa si deve inventare? Per poterci ridere sopra? E non farsi infettare? E se questo mese poi passasse in un giorno? Vedi caro Pino mio come diventa importante che in questo istante te lo dica anch'io. Il mese che sta passando. Tampo se ne andrà. Ma il mese di maggio arriverà con una grande vita. D'accordo, chiamo un po' in un choc'io qui dalle là. pa, 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 proof, que ci dov'è thele. Pa, 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 va, pa,ppa, pa, 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 achieve... efficiency in 0.5, pert, a tempo? Grazie a tutti.